Il video è stato fatto di arrivare fino al tweet. È già il quarto caso nelle ultime due settimane, è un vero e proprio orrore. Quelli che noi chiamiamo orrori, per loro sono conseguti. Mi chiamo... Mi chiamo Gismaglio Gismaglio a loro Salve Io mi chiamo Anita Nadia Salve Mi chiamo Asra Salve Io mi chiamo Anita Salve Sono Chiara Non vuoi essere sanga per me Sono io l'uomo di casa Mi devi rispettare Tu sei la mia puttana Sei la mia puttana Dillo 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 Catto Dillo Nel nome del popolo italiano La corte rigetta le accuse per mancanza di prove Stando agli atti e alle dichiarazioni raccolte La ragazza sembra essere complice dei giochi escogitati dai suoi coetanei Secondo la tesi del giudice Io c'è stata La colpa Era mia Io Sono il tuo Dio Non avrai altro Dio All'infuori di me Dillo